L'aiuto che vi richiediamo è molto semplice, basta fare quattro vocali ai ritornello, insomma poi me lo spiega lui quando sarà il momento, una cazzata. Parta pure la chitarra acustica, ma chi è questo? Arriba gente, va via gente, è un cazzino. Mi piace il modo in cui i miei bambi compagni raccordano in diretta alla partenza della canzone, ma va benissimo così, perché sappiamo che alla fine il risultato sarà bellissimo! Arriba gente, va via gente, è un cazzino. Sono della crisi, con tiri non ho scontenti, porti belli e decisi, paranoia e nicotina. Guarda come sono ridotto, dalla sera alla mattina, sono quasi sempre costo. E con l'anima, con l'anima, mi sento solo il fatto, tutti sono efficienti, io mi fò nemmeno il detto. La mia mamma è preoccupata, non ho ancora namorosa, ma la mano è allenata e non è neanche gelosa. Ho, 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 ho. Penso il barroco mi dice, osservandomi di spieco Peccatore infelice, toccati e diventi cieco Ma io amo parte solo, amo chiudermi nel cesso Penso tanto all'altro sesso, infelice prende volo Allora, siccome stasera mi sembra vedere un pubblico bello e attivo Questa sarebbe la parte dove voi altri che state ripostati solito Chidate una mano a coreggiare Perciò, quando Vinicio avrà finito di farvi sentire la difficoltà In mani di questo coro di quattro vocali Toccherà a voi uno lui Il prossimo è vostro, eh Oh, 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 ora Buono Un po' meglio, eh Bisogna fare meglio Fagliene sentire un altro, se C'è anche un po' di gente laggiù Venite a partecipare A questa gioia collettiva Sentite questo ragazzo come si scola per voi Il prossimo è vostro, eh forza anche laggiù in fondo uno insieme uno loro l'ultimo polivello un altro lato l'ultimo dai a Vallo Grosso grazie mille grazie grazie